Adesso facciamo vedere tutti quanti come calibrare la bussola del proprio drone Allora, innanzitutto accendiamo la radio con tutti i selettori, tutti quanti in modalità GPS Dopodiché andiamo a connettere la batteria al drone Muoviamo velocemente gli switch Nella modalità Volo Eccolo qui Finalmente siamo riusciti Grazie al radiocomando ad avere l'opzione del sentaggio della bussola Allora, andiamo sulla parte posteriore del drone Lo prendiamo Ed effettuiamo un giro di 360 gradi A luce gialla Quando abbiamo completato il nostro giro vedremo la luce verde Il NASA segnerà luce verde Dopodiché la bussola non è ancora calibrata Dobbiamo spostare il drone verso sopra Facciamo ancora 360 gradi di giro E il drone tarpeggerà verde La nostra attivazione è avvenuta con successo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti